buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso e va là che ci aspetto un bel lavoro oggi va allora vi spiego spaccato il mozzo del grillo con le ruote in ferro stavano falciando l'erba ho trovato un ostacolo insomma il motocoltivatore si è alzato si è ribassato e dopo 30 anni di utilizzo questo è partito ho ordinato ho già cambiato i perni ora devo svitare ovviamente avevo in casa la 32 e la 27 che chiave è la 30 e quindi vai giù compra 30 bussola e combinata pendi 35 euro vediamo un po se riusciamo e venne stato la prima risco a fare ecco la dolcezza ok allora ci vorrebbe un estrattore lì io l'estrattore non ce l'ho allora proverò a scaldare la parte col cannello questo deve uscire fuori per fare questo lavoro un paio di raccomandazioni bisogna svuotare il serbatoio della benzina bisognerebbe riempirla d'acqua e chiudere il rubinetto rimandata sul carburatore questo non l'ho fatto ma l'ho svuotato ho messo un telo sopra ho bagnato tutto con l'acqua prima o una tannica d'acqua vicino a me perché con la fiamma ci si fa male soprattutto quando si lavora vicino la benzina l'ho messo in tensione con la chiave a pappagallo con un po di fortuna se riesco a riscaldarlo abbastanza niente l'estrattore che mi ha dato troppo grosso non prende quindi ci proviamo devo tagliare devo tagliare con disco ci proviamo la mia vicina vedete si comincia a intravedere la la spinetta è dove indebolito parecchio adesso vediamo se viene fuori tanto cielo guarda lì se mi ha fatto lavorare mi sa che leggermente toccato il filetto ma poca roba ragazzi cinque minuti con questo sistema il buon amico meccanico la ragione invece con gli altri sistemi ci ho messo quasi tre ore allora questo intanto adesso avvito il tutto bene dai siamo giunti a questa riparazione di emergenza in mezzo al campo a me piacciono molto ste cose devo essere sincero sono fastidiose sono stancanti ma a me piacciono moltissimo che qua viene fuori un po l'anima dell'uomo di campagna insomma io adesso mi sono dovuto fare aiutare con i consigli da chi ne sapeva più di me giustamente quindi spero che questo video vi sia stato utile se dovesse succedere una cosa del genere sappiate che si toglie il dado davanti e il resto il dado che trovate dentro che è quello che avanzato dal vecchio mozzo e conico quindi ovviamente un estrattore buono quello che mi ha prestato non ve l'ho fatto vedere questo qui è troppo grosso non va bene oppure vi dovete arrangiare con questo modo qua quello del segare la testa non ci avevo pensato onestamente quindi stato un buon consiglio e ho visto che ha funzionato avete visto in cinque minuti abbiamo risolto il problema bisogna fare un po di attenzione bene dai spero di esservi stato utile se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale condividete il video se vi fa piacere commentate un attimino qui sotto se avete più esperienza di me in questo settore almeno se avete fatto qualcosa di diverso per tirarlo fuori vi ringrazio per stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata